ciao e benvenuti in un nuovo video fova channel oggi vi parleremo di due nuovi obiettivi della casa samyang l'85 mm 1.8 per mirrorless apsc e micro 4 terzi i 14 mm 2.8 autofocus per nikon ci troviamo di fronte a un obiettivo piccolo compatto e leggero pesa solo 300 grammi e per capirci meno di una lattina quindi una soluzione compatta e comoda da trasportare al suo interno troviamo due lenti la prima che corregge le aberrazioni cromatiche mentre l'altra migliora la nitidezza della fotografia invece questa qua sul fronte ha un trattamento multistrato che riduce l'effetto flare ed immagine fantasma l'85 mm e la focale solitamente utilizzata per ritratti e still life nel caso di questo samyang grazie alla sua ampia apertura possiamo giocare con la profondità di campo andando alla ricerca di effetti creativi noi nel primo e veloce test che abbiamo potuto fare abbiamo apprezzato la morbidezza dello sfocato anche in ambito video passiamo ora al 14 mm il primo autofocus samyang per fotocamere nikon full frame anche in questo caso ci troviamo di fronte un obiettivo compatto e leggero un obiettivo composto da 15 lenti in 10 gruppi anche su questo 14 mm non mancano vetri speciali come due lenti asferiche una bassa dispersione e 4 ad alta rifrazione che detto in parole povere significa aberrazioni cromatiche e dispersione della luce ridotta per mantenere un'immagine sempre più nitida ritroviamo poi lo stesso trattamento multistrato ma è stata aggiunta la protezione agli agenti atmosferici quindi cos'altro aggiungere con un 14 mm sulle fotocamere full frame avrete un ultra grande angolare di 116.6 gradi di campo inquadrato mentre con le fotocamere apsc avrete un campo inquadrato più piccolo di 92.8 gradi queste sono le caratteristiche che rendono i due obiettivi particolarmente interessanti per i foto amatori che cercano il giusto compromesso tra qualità e prezzo se anche voi fate parte di questa categoria visitate il nostro sito e cercate il rivenditore più vicino a voi e ricordatevi che solo fova garantisce 5 anni di garanzia bene continuando a parlare di ottiche qual è l'obiettivo che non avete e che vorreste avere scrivetecelo nei commenti e ne parleremo insieme se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video